La testimonianza dei credenti in politica è già politica in sé, dà una sua visibilità, una sua forza, sprigionano una sua luce, è lievito più che massa e noi siamo chiamati proprio a ricomporre quelle tensioni sociali che ci sono, che si stanno estremizzando e che invece trovano nel luogo della mediazione, luogo di sintesi, nel luogo anche della rielaborazione culturale, nella fedeltà ai principi costituzionali, ma anche nell'antropologia dei principi della dottrina sociale della Chiesa, una visione e una ricchezza che sono assolutamente unici, tant'è che quando noi gli offriamo, molte persone di buona volontà non credente ritengono che sono condivisibili e ragionevoli per tutti, quindi quello che noi dobbiamo fare è riattivare l'impegno politico come vocazione dell'alta politica di rilanciare la dimensione della fraternità e dell'amicizia sociale come categorie nuove e quella dell'ambiente che abbia un approccio olistico dove io mi rapporto con me stesso, per chi crede con Dio, nel mio ambiente di lavoro e anche di testimonianza, di tempo libero eccetera, ma anche poi nell'equilibrio che ha appunto la natura. Questa dimensione, questo approccio noi lo possiamo rilanciare come categorie nuove che possono recuperare quello che nel continente europeo si sta facendo come visione nuova, di antropologia nuova, buona e come anche in molti dei nostri paesi, i nostri centri urbani si sta facendo anche in maniera un po' nascosta. Quello che dobbiamo fare è connettere tutti questi punti virtuosi e farli nascere e ricondurli, farli alzare, dargli le condizioni perché diventino un processo. Come fare questo processo? Non ripetere scuole di politica nuovecchia, ma riportare la vita spirituale al centro del nostro agire sociale e che poi crea l'approfondimento dei contenuti attraverso le nostre competenze che vanno rilanciate, quindi bisogna parlare di riforme, occorre parlare di lavoro, di giustizia sociale, capire qual è la nostra posizione per esempio sugli anziani, capire che cos'è e che idee abbiamo di integrazione, per esempio, sono tutte quelle dimensioni che rendono politico la nostra concretezza e la nostra testimonianza. Fare questo e poi connettere soprattutto i giovani perché abbiamo 18 milioni di persone che non votano più e soprattutto dicono i sondaggi che una persona su due che partecipa alla messa non vota. Quindi è chiaro che c'è un'offerta enorme e c'è la riattivazione di una speranza che oggi invece fa prevarire la paura che anche la Chiesa in Italia può con coraggio rilanciare e affrontare come nuova stagione. Dobbiamo esserci e ciascuno deve portare questa costruzione di bene comune il proprio mattone.